Oggi noi ragazzi SMA abbiamo un farmaco. Stiamo avendo buoni risultati, ma abbiamo pochi centri per la somministrazione e solo alcuni acido nella cura. Facciamolo tutti. Che ve ne fare? Lo faccio io. Quanto vi serve? 5 milioni e 200 euro. Facciamolo tutti, facciamolo tutti. Bella Mirko, mi piace lo spot. Tanto per me. Ehi, toglieteci il farmaco a questo. Dammi l'assegno.